A cosa rinuncereste per andare nello spazio? Vediamo a cosa rinunciò la francese Claudie Inieret che è ricordata non solo per essere stata la prima donna astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ma anche perché è stata ministro del governo Rafferene se non ricordo male tra il 2002 e il 2004. La prima missione della Inieret era prevista per il giugno del 1996, si trattava di una permanenza di un paio di settimane a bordo della stazione spaziale russa Mir e il decollo naturalmente, il volo verso la stazione spaziale sarebbe dovuto avvenire naturalmente con un razzo Soyuz. Insieme con lei nell'equipaggio c'erano due cosmonauti Valeri Corzun e Aleksandr Caleri che conosciamo poi anche per missioni successive. Dicevamo che il lanciatore utilizzato era un Soyuz come comunemente per questo tipo di missioni ma mentre per la Inieret era previsto che entrasse in servizio il modello U2 del lanciatore Soyuz, alcuni ritardi impedirono di utilizzarlo e quindi si ripiegò sul già disponibile ma almeno potente lanciatore Soyuz U che aveva un problema, aveva una spinta inferiore, quindi risultò a conti fatti che la Soyuz era troppo pesante di circa 275 kg per essere utilizzata con il lanciatore Soyuz U di vecchia generazione. Allora si presero una serie di accorgimenti per ridurre peso, il primo accorgimento come peraltro si faceva comunemente anche per questo tipo di missioni si decise di abbassare leggermente l'orbita della Mir utilizzando un cargo progress attraccato in quel periodo alla stazione spaziale quindi in modo da far risparmiare un po' di propellente alla Soyuz in arrivo e già che c'erano decisero anche di diminuire un po' la quantità di propellente da imbarcare sulla Soyuz per le manovre. Ma questo non era ancora sufficiente, allora si cominciarono a rimuovere un po' di sistemi di backup, un po' di strumenti di backup della capsula per risparmiare anche in questo caso un po' di peso ma anche questo non era sufficiente. Beh allora si andarono a cercare altri modi per ridurre peso su questa capsula e si decise di far rinunciare ai cosmonauti al loro bagaglio a mano. Una sacca che ogni cosmonauta può portare con sé, comunque un piccolo contenitore che può contenere fino a 4 kg per ciascun cosmonauta di effetti personali, cioè chi si porta le foto della famiglia, magari dei medaglioni o degli altri oggetti di questo tipo. Quindi i cosmonauti dovettero per risparmiare peso rinunciare anche al loro bagaglio a mano, quindi 4 kg in più a testa guadagnati. Ma anche questo non era sufficiente. Sapete che cosa si decise alla fine per risparmiare ancora peso? Beh si prese una decisione simile un po' ai buoni propositi che prendiamo dopo le abbuffate natalizie in cui ci diciamo lunedì inizio la dieta. Quindi anche ai cosmonauti fu fatta iniziare una dieta ferrea per far perdere circa 6 kg a testa e questo fu l'ultimo accorgimento per raggiungere quei 275 kg di risparmio di peso necessari per poter utilizzare questo lanciatore Soyuzzu con una spinta leggermente inferiore. Quindi questi cosmonauti dovettero rinunciare a mangiare un ben po' per il loro lancio. Il lancio avvenne regolarmente, la missione si svolse regolarmente con un lancio il 17 agosto del 1996. Se ci fosse stato un sergente dei Marine a curare l'addestramento dei cosmonauti magari vedendoli afferrare un biscottino avrebbe detto lascia stare quel biscotto astronauta palla di lardo. Penso che sia stato l'unico lancio in cui il suono dei motori è stato coperto dal brontolio dello stomaco dell'equipaggio. È probabile.